Oggi, finalmente, siamo in Fiji C e noi sappiamo che significa questo. Oggi l'Apro Napoli può competere con tutte le altre squadre, alla pari. Oggi noi tutti, a prescindere dalla propria etnia e provenienza, siamo tutti napoletani e lo dobbiamo dimostrare con un messaggio forte che esiste questa Napoli, che questa Napoli si sa organizzare, sa andare in campo, si comporta bene e sa anche vincere. Voglio il massimo impegno e la massima professionalità per tutto quello che è l'Apro Napoli. Noi dobbiamo pensare che oggi Flavio non può giocare, sta a Napoli da dieci anni, ha fatto le scuole a Napoli e non può giocare per colpa di un pezzo di carta. As non può giocare perché non ha ancora una residenza, perché è il padrone di casa, perché è un bastardo e vuole altri soldi per fargli la residenza. Lello è nato a Napoli, 20 anni a Napoli e Lello stasera non può giocare. A me sto fatto mi fa incazzare tanto e quindi voglio che noi oggi, anche per questo, andiamo in campo, ci impegniamo e vinciamo. A me sto fatto mi a spazzare tanto e mentre spazzare tanto e vuole altri soldi per fargli la strana e vinciamo.